Ciao a tutti ragazzi sono Ace e benvenuti in questa nuova puntata di Amnesia Felix's Nightmare Allora vediamo un po' l'amo trovato questo piede di porco Ecco c'è anche il porco Allora, questo E' aperto Il ricordo era chiuso Va bene Strammo, comunque Allora, credo è bisogno usarlo qua Ok, perfetto Che cos'era quel suono? The lock is weak? No Prendiamo questa Questa? No? Questa? Ok Chiuditi anche se non serve a molto Allora Allora Uh, chiave Non la prendo Bloccati Bloccati Sedia Sedia Controlla Sedia vai a cont... Porca puttana sedia Controlla Controlla che io usando suoni bruttissimi Ok Ok Pre... Ok Ecco Ecco Allora 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 Dimension Ah, lovely Divertente Tu Tu Perché sento I mostri I mostri che mi alitano Se sentite Se sentite... No 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 Corri Se sentite... Con le cuffie sentirete... Dei mostri che vi alitano E la cosa è inquietante You're getting deeper Ok La door felt back in Ok quindi non possiamo tornare indietro Stefano vieni con me Questo posto non mi piace per niente Ok 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 Eh Stupidi barini Qui Qualcosa No Quindi Quindi Io direi di lasciare acceso questo per segnalarci che siamo stati qui Cos'era Quella Ecco Qui niente Acciarino Olio Acciarino Scatole inutili E una chiave Lab che Ok Lì non ci va Accendiamo un segnale Bellissima sanza Bellissima sanza Lì 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 su che ti devo dire qui c'è acqua e muta scriviamo find a way to pass the door ok quindi dobbiamo trovare un modo per aprire la porta non è qui ci siamo stati quindi è collegato ok possiamo andare tante scato ops local proviamo questo ok questo sarebbe un laboratorio quindi proviamo a girare bene niente lettera suppongo che dobbiamo fare una bomba quindi come al solito ecco infatti my lord i fuel blow 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 ecco explosion liquid esplosivo con ingredienti aggiungi un po' d'acqua aggiungi detonate bruise warm it up add a day for liquids affermi no 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 il frissi taglia non è un altro ora andiamo a girare bene così nel fondo andiamo adoro e ne sono sguardo a girare bene così ok mi sono stato comendo ma in a riscare di uno che mi sono quindi mi è riportato in vita però sono diventato un mostro ok ok storage key dove sarà sto storage? chi lo sa quindi lì abbiamo il laboratorio e ti stavi nascondendo allora di qua ci sono stati qua da dove vengo qui ci sono stato sono stato ok qui non ci sono stato qui non c'è niente tu chiuditi segnaliamo olio perché si sentono i mostri ovunque quindi nel ultimo indietro come l'uccidio non c'è più olio perfetto quindi qua c'è questo non c'è non c'è non c'è non c'è il passaggio non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è sono una cassa sono una cassa non c'è sta uscendo non c'è merda perché non se ne va dai vattene dai vattene merda sono un muro io sono un muro via 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 non c'è via 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 la musica non se ne va a questo punto oh letta c'è quello che fa il sogno e non c'è un modo ah se non lo so 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 ok va bene 31 acciarini 31 acciarini 30 30 31 ... 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